Ho studiato Psicologia in Università Cattolica e poi subito a seguire il dottorato in Pedagogia Interculturale. Questa disciplina è la disciplina che oggi insegno all'Università degli Studi di Torino ed è il mio mestiere. Se devo raccontare qualcosa del mio percorso in Università Cattolica, sicuramente c'è la prima ora degli studi di arabo che ho deciso di intraprendere per arricchire in qualche modo il mio curriculum. Ricordo molto bene il giorno in cui ho preso in mano la penna da destra a sinistra per imparare quei suoni ostici lontani dell'alfabeto arabo. È lì sicuramente che ho iniziato un percorso di apertura mentale che mi ha portato poi in mondi lontani, non solo geograficamente ma culturalmente.